Unico, il mercatino smart, la città del riuso più grande di Pavia ti aspetta per farti scoprire la filosofia del recupero. Mille metri quadri di showroom per curiosare, trovare pazzi unici, divertirsi, risparmiare e dare nuova vita alle cose. Moda, casa, hobby, tecnologia. In un mondo dove tutto è usa e getta, dove il nuovo non è sempre bello, impara a essere cool, impara a essere unico. Il mercatino smart San Martino Siccomario fa via.